Il suono è l'area sottesa, cioè il lavoro, la potenza espressa dal suono, che è l'area sottesa di questa funzione. Per esempio noi abbiamo il senso dell'energia di un suono quando quest'area è abbastanza grande, invece se cala l'area il suono diventa molto più esile, molto più sottile. La distribuzione dell'energia tra frequenze gravi e frequenze acute è molto importante per la brillantezza, per esempio. Quindi c'è un numero per ogni fettina di suono che è molto importante e che è il baricentro geometrico del suono, che si chiama la centroide. Cioè praticamente se io prendo quest'area e la pendo da un filo, il punto in cui sta in equilibrio è la centroide, è il baricentro geometrico di quest'area. Se io prendo tante fettine, cioè tante scomposizioni in serie di Fourier e le sistemo nel tempo, e sistemo nel tempo la centroide, vedete che ho una funzione che è la distribuzione della centroide nel tempo, e questo mi dirà come funziona un suono. È una funzione importante perché è un singolo numero, non è perfettina, diciamo. E quindi con quel numero io capisco abbastanza, capisco se il suono è brillante, è una frequenza, quindi capisco se la centroide è alta, al di là della potenza, cioè se sta da queste parti, capisco che il suono è brillante, se la centroide è bassa capisco che il suono invece è cupo. La posizione della centroide appunto cambia nel tempo, e quindi posso sapere se un suono inizia brillante e finisce cupo, o viceversa, insomma. È un'informazione molto importante. Poi si può fare addirittura la media della centroide, cioè quindi sapere se mediamente un suono... Poi vi spiego perché vi sto dicendo tutto questo rispetto, per esempio, al discorso che stava facendo prima Leonardo. Un'altra che... altre due indicazioni che sono molto importanti sono la densità spettrale, cioè per esempio questo è un disegno che rappresenta una densità rada, appunto quello che dicevo prima, cioè un suono che è esile o non tanto potente, anche se c'ha componenti armoniche acute molto elevate, perché l'area è piccola, quindi è piuttosto vuoto, mentre invece un suono molto potente l'area sarà grande. E l'altra cosa che è importante è il flusso spettrale, cioè come cambia da fettina a fettina di suono, come quanto cambia lo spettro, cioè praticamente quanto è poco periodico il suono, cioè quanto cambia la forma. Per esempio nel parlato il flusso spettrale è molto molto alto, perché io articolando la bocca cambio costantemente il mio risuonatore delle corde vocali e questo serve per articolare appunto il parlato. Un suono che ha un flusso spettrale molto elevato, diciamo che assomiglia o può avere dei paralleli con il suono del parlato, mentre invece è un suono che posso dire di organo, che come sempre faccio degli esempi e poi dico ma non è vero, il suono dell'organo comunque ha un flusso spettrale, però molto molto minore, è molto più statico rispetto a, per esempio, a quello del parlato. Questo è abbastanza importante quando si fanno, per esempio, sintesi incrociate, in cui si incrociano suoni uno con l'altro. L'altro aspetto estremamente importante del suono è l'inviluppo. Attraverso l'inviluppo si cambia completamente questa funzione qua. Attraverso l'inviluppo si cambia completamente la morfologia di un suono, sapete bene, conoscete gli esperimenti, per esempio, legati ai suoni invertiti, in cui si inverte l'inviluppo e cambiano completamente la morfologia. Questo è, di nuovo, se il flusso spettrale è molto elevato, la morfologia cambierà di più e così via. Quindi un'altra funzione estremamente importante è proprio legata alla morfologia del suono, cioè a come si muove nel tempo. Ok, queste sono tutte caratteristiche. Perché ne parlavo? Perché, appunto, per darvi gli esercizi della volta scorsa, vi dicevo, potete andare su un'applicazione che è molto importante per tutta una serie di ricerche, che è freesound.org, che è un sito che è stato fondato da ricercatori, e che è al quale tutti possono partecipare con suoni, inserendo suoni. Quindi ci troverete milioni di suoni di tutti i tipi, potete cercarli, eccetera, eccetera. Ma quello che è interessante è che quando qualcuno immette un suono all'interno di freesound.org il sito ha un meccanismo automatico di analisi che ne tira fuori molte delle caratteristiche sonore. In realtà questo sito è stato fatto per dare, diciamo, dare materiale alla ricerca sulla Music Information Retrieval, ed è quindi, diciamo, quello che a loro interessa è non tanto, cioè non è un sito fatto per scopi commerciali, quanto per scopi di ricerca. Ha avuto un successo fenomenale, c'è miliardi di suoni dentro, e soprattutto è possibile accedere ai suoni, appunto, attraverso le loro caratteristiche, cioè è possibile cercarli, per esempio uno vuole dei suoni che abbiano tutti, la centroide mediana a 330 Hz, e lui troverà tutti i suoni, e poi naturalmente si può raffinare la ricerca, si può dire voglio tutti i suoni che abbiano la mediana, più l'inviluppo spettrale fatto in questo modo, più questo, più quell'altro. C'è una API, che è una Application Programming Interface di Python, per accedere a Freesound.org, cioè potete accedere in maniera algoritmica, ed era appunto uno degli esercizi che avevo dato, era quello di cominciare a studiare queste API e provare a fare delle cose. Tra i suoni che si possono usare come suoni concreti, ovviamente ci sono anche i suoni strumentali, questa è una delle prime cose che hanno cominciato a fare i musicisti, con i suoni concreti, in particolare musicisti americani, Usacevsky, Looning, eccetera, che fondarono il movimento della tape music, che studierete all'inizio degli anni 50, e la tape music era sostanzialmente musica elaborata su un nastro magnetico, però il nastro magnetico conteneva suoni strumentali, flauti, piuttosto che archi e così via. Un altro che ha usato molto suoni strumentali è stato Luigi Nono, e uno dei primi utilizzatori in maniera estremamente musicale e compositiva, questo ve lo dico, se ve lo potete andare a sentire, è Bruno Maderna, con il suo Musica su due dimensioni, che era un pezzo per flauto e nastro, in cui il nastro fa delle sorte di interpolazioni tra i pezzi suonati dal flauto e dal vivo, e il nastro contiene il flauto elaborato in maniera elettronica, quindi le due dimensioni sono questo paragone tra il flauto come strumento e il flauto come rappresentazione simbolica, diciamo, che è quello che si trova sul nastro. Musica su due dimensioni è un pezzo a forma aperta, cioè si possono ricombinare le alternanze tra parte di flauto solo e parte di flauto sul nastro, per cui se ne ascoltate più versioni, più interpretazioni, vedrete che può anche essere molto molto diverso. Un'altra cosa che avevamo visto l'altra volta è uno degli elementi che si può fare, che si fa generalmente con i suoni concreti è quello di combinarli insieme. Nella combinazione si fanno quelle, questo probabilmente l'avete già fatto, quindi sono già cose che conoscete, però giusto per ripassarlo. Quando voi fate l'editing e in generale fate il crossfade, i crossfade convenzionali sono fatti appunto incrociando i suoni su un editor di suoni e per esempio anche questo ha una serie di riflessioni da fare. Siccome quando si incrocia in suoni sostanzialmente si fa la somma algebrica dei due suoni, quindi sostanzialmente si sta facendo un'addizione tra i due, allora è importante capire se i suoni sono più o meno correlati, vedete questi sono due suoni correlati, quindi qua sostanzialmente quando io sommo faccio il doppio del suono, e quindi se voglio incrociare questi due suoni in maniera corretta, in maniera che non ci sia uno sbalzo, sarà bene che li inviluppo, aggiungo una moltiplicazione prima di sommarli in maniera con una funzione lineare, che sostanzialmente qui è a metà della strada e qui è a metà in maniera che quando c'ho tanto di uno, c'ho poco dell'altro, in forma lineare. Questo funziona bene per segnali correlati. Cosa significa correlati? Significa che sono sostanzialmente molto simili e anche in fase tra loro, cioè la fase qual è? è il punto di partenza, devono anche essere abbastanza nello stesso punto per essere veramente correlati. Generalmente non è questo quello che succede, quindi quello che generalmente i segnali non sono correlati, se si fa un crossfade, si fa un crossfade tra due segnali diversi, adesso questo è disegnato molto male. Quindi in questo caso è importante che non ci sia uno sbalzo energetico durante il crossfade e quindi si usano dei crossfade esponenziali, nel senso che si mantiene uguale la potenza, siccome la potenza è appunto l'area sottesa dalle funzioni, e siccome la potenza appunto essendo un'area va col quadrato, è necessario utilizzare dei crossfade di tipo esponenziale per ottenere la potenza uguale. Vabbè, e questo è appunto un altro dettaglio. Quello che mi interessa di più è che noi come compositori eccetera eccetera possiamo fare dei inventare dei crossfade non convenzionali e qui avevo fatto con Leonardo alcuni esempi possibili di crossfade non convenzionali. Perché dico questo? Perché quello che vi voglio abituare è pensare out of the box, cioè pensare trasversalmente. La composizione appunto non è cioè quei crossfade che abbiamo visto fino adesso sono roba da che posso dire studio di registrazione tecniche in cui appunto abbiamo abbiamo già un messaggio musicale c'è già una composizione e quindi dobbiamo magari unire due parti in maniera in maniera che non si senta l'unione in maniera questo è un problema ma quando quando invece componiamo noi possiamo usare anche l'editing anche il montaggio in maniera compositiva non convenzionale realizzare altre cose. Un esempio che ho fatto è quello di fare dei qua non ho le figure vabbè per esempio dei crossfade io li ho chiamati cinematografici non so come chiamarli ma perché quello che mi viene in mente è il film di Ingmar Bergman Sussurri e Grida in cui lui usa una tecnica molto particolare per fare il cambio scena da una scena all'altra invece di fare il cambio scena convenzionale cioè quello di far sfumare una scena e far iniziare un'altra lui fa arrivare la scena con una piccolissima intervento iniziale sulla scena precedente e poi l'intervento si ingrandisce si ingrandisce si ingrandisce e poi passa alla scena successiva questo quando l'ho visto mi ha colpito come meccanismo è molto forte dal punto di vista narrativo è estremamente forte e per esempio questo è un meccanismo che si può usare anche musicalmente cioè alternare fettine del suono successivo nel suono precedente con una crescita che può essere ovviamente regolata crescita di dimensione a cui corrisponde una diminuzione della dimensione dell'altro suono ed infine si passa da un suono all'altro questo è un prego scusi se l'altro giorno mi sono ritrovato a fare un crossfade tra due vocals e alla fine ho fatto un crossfade attraverso il riverbero cioè sono andato a far sparire il lead vocal mandandolo sempre più su un wet reverb e il il coro che poi si è trasformato in lead vocal l'ho fatto passare da più wet e l'ho abbassato a dry quindi va bene come crossfade credo allora ci dobbiamo mettere d'accordo sulla termina non so scusatemi io sono molto indietro su questa cosa non so cosa vuol dire lead vocal non so c'è il vocal principale c'è la voce principale su una traccia e stavo mixando questa traccia e alla fine dovevo far sparire la voce principale e far entrare il coro dietro e avevo lasciato inizialmente quando bisognava dare più enfasi alla voce principale una voce principale con meno riverbero e più asciutta e poi l'ho fatta sfumare con il riverbero e ho fatto entrare il coro che prima aveva più riverbero rendendolo più asciuto diciamo è molto no allora non c'è niente che io vi possa dire va bene o non va bene cioè dipende dal contesto dipende da però quello che posso dire così è che per esempio questa è una cosa molto convenzionale da fare nel senso che che cosa quando tu metti riverbero che cosa stai facendo tu stai semplicemente allontanando la voce quindi dal punto di vista rappresentativo del suono quello che stai facendo è la voce se ne va se ne va proprio fisicamente si allontana e arriva il coro ok adesso quanto sia plausibile fisicamente questa rapida perché noi è facile farlo per noi muoviamo bottoni ma poi pensate un attimo se doveste farlo fisicamente c'è una voce che è presente e c'è un coro che deve arrivare di corsa perché nel frattempo la voce sta scappando via e cose di questo tipo diciamo che questa è un crossfade quindi che ha una rappresentazione fisica che è più o meno plausibile a seconda di come di come gestite i parametri capisci Leonardo il punto è se cioè che ne so la voce io posso prendere il cantante e buttarlo dentro un pozzo no e quindi e quindi il riverbero sale molto molto velocemente eccetera eccetera a quegli altri arrivano sempre di corsa oppure vengono portati da un ascensore dal polso in su eccetera dovete pensare a qual è la il corrispettivo fisico nei crossfade non convenzionali non c'è corrispettivo fisico stiamo facendo stiamo inventando altre altre forme di rappresentazione e che naturalmente le stiamo inventando perché le possiamo inventare perché la tecnologia che abbiamo ci permette di inventarla quindi ecco l'unica cosa che mi sento di dire è questo cioè provate a pensare però naturalmente mi riferisco a a un linguaggio musicale che vi permette di inventare cioè se voi siete assolutamente liberi di inventare allora potete inventare quello che vi pare se invece per esempio dovete rispettare un paradigma di fisicità cioè per esempio non potete polverizzare il cantante cioè allora avete dei limiti ma non lo sto dicendo negativamente lo sto dicendo dovete capire quali sono qual è il contesto nel quale vi al quale fate riferimento se il contesto è un contesto fisico allora usate l'elettronica per simulare il contesto fisico questo è un discorso che va molto al di là di così nel senso che questo per esempio è uno dei delle grosse differenze che c'è tra come noi diciamo noi della musica elettronica storica concepiamo lo strumento elettronico e come per esempio viene usato nella 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 musica di consumo nella musica di consumo generalmente l'elettronica viene usata come surrogato di un fenomeno fisico che sia uno strumento convenzionale o che sia anche uno spazio convenzionale cioè generalmente stanno tutti dentro cattedrali cose cioè cose estremamente riverberanti per esempio l'uso del riverbero è un uso estremamente se vogliamo pubblicitario cioè carta serve per fare la patinatura della carta ma l'uso del riverbero per noi è tutta un'altra cosa questo è un discorso che riprenderemo in continuazione quindi possiamo continuarla anche dopo in linea generale non c'è non c'è cosa che io vi posso dire si così va bene no così non va bene questa è una delle difficoltà dell'insegnamento cioè io vi devo insegnare delle cose senza darvi allora il corale si fa così c'è un basso bisogna evitare le quinte parallele bisogna evitare tutta una serie di regole e poi posso stare lì e dire no così non si fa e invece io non lo posso fare posso posso soltanto dirvi pensate ragionate a quello che state facendo e cercate di estendere il vostro ragionamento cioè di analizzare quello che è la la situazione quello che state realizzando spero che di aver risposto alle tue domande non lo so comunque sì grazie andando avanti i i un'altra un'altra cosa che si poteva fare che avevo sulla quale avevo stimolato ma prego aspetta che ti sentiamo male una cosa che potete fare per sentire bene per migliorare la qualità dell'ascolto è se andate in basso a destra potete mettere la manage video quality si vai avanti di suono o anche in programmazione scusami ridì la domanda non abbiamo sentito mi sa che è cresciata peccato era era interessante la domanda ma io non sono riuscito a capirla ok aspettiamo forse riesce a tornare vabbè intanto andiamo avanti una eccola Sheila sì mi senti sì adesso sì ripeto sì questo crossfade si può fare in questo editore di suono per esempio in mac logic o se facciamo questo crossfade anche in un linguaggio di programmazione certamente si può fare in Cisato Super Collider per esempio sì 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 certamente si può fare in entrambi i casi cioè il punto è questo quando lo fate con un linguaggio di programmazione cioè quando programmate queste cose qua potete potete fare cose che sono molto complicate da fare con un editor per esempio mettiamo conto il fare un crossfade con 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 quella tecnica la tecnica alla Bergman diciamo per capirci e questo questo crossfade dipende molto dalla vostra pazienza se lo dovete fare con un editor di suono dovete prendere un pezzettino alternarlo con quell'altro staccare giuntare fare a manina uno per ciascuno quindi quanti ne farete cinque sei già dopo sei siete sfiniti con invece se lo programmate con se vi fate un piccolo softwareino che vi crea la partitura di c sound oppure invece un algoritmo che con super collider vi fa la cosa naturalmente se volete fare mille mille passaggi li fate se volete fare diecimila una roba lunghissima che non finisce più li fate cioè li fa lui li fa la macchina ecco da questo punto di vista io vorrei che voi cominciate a vedere il computer questo è un altro problema che abbiamo grosso noi di avere generalmente usiamo il computer come tostapane cioè usare un editor di suono per fare questo tipo di cose qua è vuol dire appunto fare tutto a mano naturalmente con i limiti della questione cioè la precisione la la quantità e così via farsi aiutare dalla macchina per fare queste cose qua significa riuscire ad andare ad un altro livello a pensare e immaginare cose impensabili permettetemi di fare di andare al passaggio successivo per esempio voi non so se conoscete tutti le 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 cino cioè l'immagine della regina d'inghilterra fatta con tutti i sudditi inglesi l'immagine di obama fatta con tutti gli americani e così via o trump tanto va bene tutto ecco provate a immaginare come potrebbe essere fatto un fonomosaico cioè fare che ne so un frammento melodico costituito da diecimila suoni diversi che sono sistemati in maniera da corrispondere a un elemento sonoro che serve in quel momento cioè per esempio scegliendoli attraverso la centroid per dire va bene mi servono suoni tutti di questa frequenza qua vado su freesound con l'API di python e scelgo tutti questi suoni e poi comincio a combinarli tutti insieme questa è una roba che non c'è se lo dovessi ovviamente lo posso fare anche a mano li combino li metto tutti insieme in un editor di suoni e li combino a mano ma questa è una cosa che ha un limite fisico proprio a quanto riesco a fare mentre invece se lo faccio attraverso la programmazione eccetera eccetera non ha limiti questi sono solo esempi un'altra cosa che di nuovo ha bisogno di macchine è l'idea di fare dei crossfade spettrali adesso qua in questo asse c'è la frequenza di nuovo questo è lo spettro questa è una rappresentazione che si chiama spettrogramma e in cui per esempio il crossfade possono essere fatti da due suoni che sono separati in cui si interpola le componenti anche incrociandole potete inventare quello che volete attraverso per esempio delle interpolazioni sinusoidali cioè io prendo siccome queste sono tutte componenti sinusoidali il suono complessivamente non è sinusoidale ma è una combinazione di componenti sinusoidali e anche il prossimo sarà così io posso fare dei glissandi spettrali diciamo tra uno all'altro per combinarli insieme questo di nuovo è una cosa che si può fare se la fate a macchina magari è difficile fare l'algoritmo iniziale ma poi dopo potete appunto moltiplicarlo per 10.000 e funziona bene un'altra cosa è quella di fare c'è successo qualcosa ah no abbiamo due scile ok un'altra cosa è quella di fare dei crossfade in cui per esempio le componenti armoniche vengono estese un po' quello che ha fatto Leonardo col riverbero vengono però prolungate da singole sinusoidi non tutte magari cioè organizzate in un certo modo per potersi incrociare col suono successivo e quindi c'è un crossfade che viene fatto per sfilacciamento spettrale diciamo ma questi sono solo esempi per inventare perché vedete che anche una cosa stupida come il crossfade che va da una semplicemente passare da un suono un altro può essere oggetto di di elaborazione compositiva cioè ci potete comporre sopra ok sono le 9.35 vogliamo prendere 5 minuti di pausa va bene per me va bene dai ok 5 minuti si si va benissimo poi mi mandi puoi metterla in pausa ok si si poi mi mandi le due parti io le ho giunte insieme ok 5 minuti alle 41 siamo di nuovo qua